è Mirta Merlino, Mirta Merlino, Dio quanto è bella Mirta Merlino, Claudio Borghi e il gastroenterologo, Mirta Merlino, la pandemia, il lockdown, Claudio Borghi e il gastroenterologo, io leggo la notizia cari amici, leggo la notizia perché qua c'è il signor Claudio Borghi, io non ti conosco Claudio Borghi, mi devi scusare ma devi essere una persona importante, qua c'è il signor Claudio Borghi che all'aria che tira sulla sete smonta il professor Nino Cartabellotta perché questo signor Claudio Borghi, ripeto è una persona importante, è un leghista, deve essere importante Claudio Borghi, e dice all'aria che tira, dice alla bella e brava Mirta Merlino che il professor Nino Cartabellotta è un gastroenterologo che insomma non dovrebbe parlare di pandemia, essendo un gastroenterologo non è un virologo, non è un pneumologo, non è un epidemiologo, beh insomma sentite io vi metto la notizia, a me più che altro interessa questa Mirta Merlino che è veramente una bella donna, io non so niente di Mirta Merlino, mi dispiace Mirta Merlino perché io non guardo la tv, insomma io le notizie le leggo, le leggo, le leggo, insomma questa è la situazione, e qua questo signore importante che si chiama Claudio Borghi, Claudio Borghi è un leghista Claudio Borghi, dice che insomma è inutile fare il lockdown, per cui mi viene il dubbio che questo signore importante Claudio Borghi che ha smascherato il gastroenterologo, e questo signore importante che è Claudio Borghi segua la mia web tv o te manda, perché io è da gennaio del 2020 che dedico video al covid-19 e vado dicendo che il lockdown serve a poco, io non è che mi posso ripetere all'infinito, mi sono stufato, mi sono proprio stufato, che sia chiaro, capito Claudio Borghi, capito, mi sono proprio stufato, non mi posso ripetere all'infinito, ho sempre detto che il virus, il virus covid-19 va lasciato scorazzare, va lasciato scorazzare, va lasciato, perché poi circa i morti, si si ti dice che siamo 100.000 morti, più di 100.000 morti, ma come? Morti come? A causa del covid o con il covid? Ci sarebbe da dire, poi ho citato la spagnola, la spagnola 1918-19-20, mica è morta tutta l'umanità, è sopravvissuta l'umanità spagnola, poi ho citato la peste di Albert Camus, quella a Tageri, poi ho citato la peste di Alessandro Manzoni, ho citato la peste di Giovanni Boccaccio, sono pochi quelli che vengono attaccati e uccisi dal virus, la maggior parte guarisce, la maggior parte ancora non viene neanche attaccata dal virus, quindi a me fa piacere, a me fa piacere che questa trasmissione, questo signore Claudio Borghi, che ripeto c'è scritto, Claudio Borghi deve essere una persona importante, un leghista, sarà un parlamentare, eh Carlo Borghi? Chi sei, un parlamentare? Qua c'è Mirta Merlino, accidenti quanto sei bella Mirta Merlino, però il fatto è che Mirta Merlino resta desasso, c'è scritto, quando Claudio Borghi dice che Nino Cartabellotta è un gastronterologo, non è un virologo, cose belle cari amici, cose belle di cui io vi metto il link, vi metto il link dell'articolo, capito? Ve lo metto, e vi metto anche qua, la strip del serpente, per cui a Mirta Merlino, a Mirta Merlino, al parlamentare leghista, Claudio Borghi, al gastroenterologo Nino Cartabellotta, e a tutti voi non posso far altro che dire di andate tutti in libreria a comprarvi una bella copia della strip del serpente, va bene? Ok, 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 ok. Poi soprattutto, io qua evidenzio Mirta Merlino, Mirta Merlino, bene, bene, bene cari amici.